Musica Salve a tutti misi youtubers e bentornati dal vostro Gatoria del Gelo su 94 e benvenuti come ho promesso alla mia guida personale sui gironi della Champions League 2017-2018 dal girone A al girone H è la prima volta che faccio una cosa del genere perché non mi sono mai soffermato specificatamente su queste cose, su questi argomenti però voglio comunque provare e spero che apprezzerete la mia opinione detto questo iniziamo subito, voglio partire, mi sposto un altro pochino così almeno posso far scorrere qua vicino i nomi delle squadre partecipanti con il girone A il girone A che prevede Benfica, Manchester United, Basilea e CSK Mosca allora è un girone che nel complesso è abbastanza equilibrato non sarà certo uno di quelli più spettacolari però squadre come Manchester United, CSK Mosca, Basilea e Benfica hanno fatto parte della Champions League per tantissimi anni soprattutto Benfica e Manchester United e quindi sono sicuro che potremo vedere delle partite interessanti personalmente penso, vi faccio anche un pronostico su quelle due squadre che passeranno e quella che andrà in Europa League per me vedo assolutamente favorite Benfica e Manchester United mentre tra CSK Mosca e Basilea vedo un pochino più favorita la squadra svizzera perché rispetto a CSK Mosca mi sembra leggermente più forte a livello tecnico però anche in questo caso parliamo di una sfida tra due squadre più o meno dello stesso livello quindi io prevedo Benfica e Manchester United con gli inglesi primi e Benfica secondo e uno tra Basilea e CSK Mosca ai sedicesimi di Europa League passiamo invece al girone B quello che più di tutti ho temuto potesse essere della Roma che per fortuna, per modo di dire, ha preso un altro girone un girone veramente tostissimo con Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Anderlecht e Celtic allora diciamo che questa almeno a livello di pronostico è un girone sulla quale non c'è praticamente storia con Bayern Monaco e Paris Saint Germain assolute favorite per il passaggio ai ottavi di finale e che si lotteranno fino all'ultimo l'accesso come prima in classifica diciamo che molto dipenderà da quanti punti verranno fatti proprio in questi scontri perché con Celtic e Anderlecht a meno di clamorosi colpi di sorpresa entrambe le due squadre faranno 6 punti in casa e al ritorno anzi parliamo proprio di 12 punti e quindi vedremo un po' come si evolveranno le partite tra queste due squadre cioè gli scontri diretti tra queste due squadre personalmente vedo il Paris Saint Germain molto migliorato rispetto alla scorsa stagione ovviamente con l'arrivo di Neymar, il probabile arrivo di Mbappé e comunque la permanenza di gente come Cavani, di Maria eccetera eccetera la vedo una squadra tostissima rispetto a Bayern Monaco che per quanto rimane una squadra fortissima soprattutto nel prestagione ha dimostrato di soffrire un pochino certo ovviamente le amichevoli prestagionali non contano particolarmente però sia in quelle che nelle prime partite si è visto che la squadra ha leggermente ma dico proprio leggermente calato il suo rendimento quindi penso che attualmente il Paris Saint Germain sia leggermente più favorito rispetto al Bayern Monaco per un accesso come prima agli ottavi di Champions League parlando della terza squadra io penso che anche qua parliamo di una sfida equilibrata e penso che alla fine la spunterà il Celtic seppur di poco del gruppo C che riguarda ovviamente la Roma vi ho già parlato in un video a sé ovviamente potete andarlo a vedere sul mio canale cliccando sulla playlist del Talking About è l'ultimo video che ho caricato passiamo al girone D che riguarda la Juve e qua voglio parlarvi in maniera più approfondita la Juve che ha beccato il Barcellona, l'Olimpia Cos e lo Sporting Lisbona diciamo che la Juve è andata abbastanza bene anche se considerando che era la squadra del prima fascia e quindi si era già tolta le squadre più forti di ogni campionato si è presa la squadra di seconda fascia più forte di tutto ovviamente il Barcellona è un po' assurdo secondo me che il Barcellona si trovi in seconda fascia e lo Shaq Tardonex in prima però queste sono le regole della Champions League e noi non possiamo fare altro che accettarle comunque io penso che la Juve abbia tutte le carte in regola per passare soprattutto perché è molto più forte rispetto all'Olimpia Cos e lo Sporting Lisbona due squadre che non sono da sottovalutare soprattutto Lisbona in casa propria potrebbe essere un avversario abbastanza difficile però penso che la Juve se impronterà le partite come le ha improntate negli ultimi anni visto che è arrivata quasi sempre negli ultimi tre anni in finale di Champions League riuscirà a vincere tranquillamente sia in casa che fuori casa magari ci potrà stare un pareggio in terra greca oppure in casa di Lisbona però penso che a livello generale la Juve farà tanti punti e riuscirà a passare come prima non lo so perché vedo il Barcellona un pochino più favorito però sarà una lotta fino all'ultimo per vedere quale squadra accederà come prima e quale come seconda mentre invece al terzo posto ci metto lo Sporting Lisbona che per me seppur di poco riuscirà ad avere la meglio degli avversari greci il gruppo E invece prevede lo Spartak Mosca, il Siviglia, il Liverpool e il Maribor anche in questo caso vedere Spartak Mosca prima della propria serie e il Liverpool terza veramente sono cose allucinanti ma comunque per me i favoriti sono Siviglia e Liverpool con il Liverpool leggermente più favorito rispetto al Siviglia diciamo che anche in questo caso il girone si può dividere in due blocchi tra due squadre nettamente favorite e due squadre che cercheranno perlomeno di fare un girone onorevole e di qualificarsi per i sedicesimi parliamo subito delle squadre di Europa League e penso che lo Spartak Mosca riuscirà a qualificarsi senza problemi con il Maribor che arriverà ultimo in classifica mentre invece tra Siviglia e Liverpool sono proprio questi ultimi come favoriti soprattutto se riusciranno a fare dell'Anfield Road un vero e proprio fortino il girone F riguarda invece il Napoli e in questo caso diciamo che al Napoli è andata molto molto bene secondo me perché ha preso una delle squadre di prima fascia più facili di tutte e cioè lo Shakhtar Donex anche se in casa loro non sono facili da battere ma rispetto alle altre squadre sicuramente sono l'avversario più abbordabile il Manchester City in seconda fascia e il Feyenoord in quarta fascia allora avendo affrontato negli ultimi anni sia Feyenoord che Manchester City e anche lo Shakhtar Donex anche se parliamo di sei anni fa posso dire che le sfide più difficili saranno proprio fuori casa ma saranno più con lo Shakhtar che col Feyenoord che in casa del City perché il City diciamo che ha una bella squadra come organico è nettamente superiore alle altre due che vi ho elencato però in Europa spesso non rende al massimo nonostante abbia appunto questa squadra forte io penso che il Napoli potrebbe riuscire se riuscirà a giocare bene sia a vincere all'andata che anche a vincere in casa del City è difficile per carità però secondo me potranno fare il risultato anche in quel caso mentre invece le trasferte col Feyenoord e con lo Shakhtar le vedo molto ostiche e non so se il Napoli riuscirà a fare sei punti in queste due occasioni quindi io come pronostico vedo il Napoli come favorito per il passaggio come prima del girone come seconda ovviamente il Manchester City e come terza lo Shakhtar Donex che vedo tecnicamente più forte rispetto al Feyenoord il girone G invece è quello secondo me più ridicolo di tutta la competizione sembra praticamente un girone d'Europa League con Monaco, Porto, Besiktas e Lipsia ok che Lipsia ha fatto una bella stagione l'anno scorso ok che il Porto ha delle buone individualità ah il Monaco ha ancora Mbappé per il momento e Falcao però rispetto a tutte le altre squadre che ci sono sugli altri gironi questa è una cosa abbastanza ridicola infatti è per questo che non approvo il fatto che ci sono squadre di miglior livello sulla prima faccia e squadre di miglior livello su seconda e terza faccia però come ho detto non faccio le regole quindi ci dobbiamo accontentare qua diciamo che è un girone abbastanza equilibrato vedo sia Monaco che Porto come favorite per il passaggio proprio in quest'ordine sia Monaco primo che Porto secondo mentre invece tra Besiktas e Lipsia penso sarà una lotta molto importante ma penso che la spunteranno i turchi perché almeno rispetto a Lipsia hanno più esperienza a livello internazionale perché penso che i tedeschi siano la loro prima se non a una delle poche apparizioni in Champions League parliamo invece dell'ultimo girone l'ultimo girone che è molto molto bello secondo me con Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham e Apoel e Nicosia diciamo che a parte quest'ultima squadra tutte le altre tre sono delle ottime squadre e secondo me vedremo delle partite fantastiche sia tra Real e Borussia, sia tra Real e Tottenham e sia tra Tottenham e Borussia sono sicuro che vedremo un bel calcio perché sono tre squadre veramente veramente forti però secondo me Real Madrid parte come nettamente favorita ovviamente da campione Europa in carica è sicuramente un passo in avanti rispetto a altre due mentre invece tra Borussia e Tottenham non so veramente dirvi qual è la più favorita forse un peletto più Tottenham però sono entrambe squadre forti e molto belle da vedere quindi non sarà per nulla facile secondo me questa partita si deciderà soprattutto nelle sfide a scontro diretto cioè Borussia Tottenham e Tottenham Borussia mentre invece per le altre vedo un generale equilibrio spero di riuscire a vedere qualche partita di questo girone ovviamente quando la Roma non giocherà questa era la mia analisi per quanto riguarda i gironi di Champions League in cui vi ho detto i favoriti quelli che arriveranno secondo secondo me e quelli che andranno in Europa League sono dei semplici pronostici quindi non è detto che ci azzeccherò anzi probabilmente non azzeccherò nessuno però spero ovviamente di poter vedere un bello spettacolo la Champions League merita di mostrare fatemi sapere nei commenti voi che se ne pensate di questa mia analisi sui gironi della Champions League un saluto e ci vediamo più tardi per un altro video sempre e comunque Forza Roma ciao ragazzi Grazie a tutti